Seve Canabic, al limite Canabinic, Antidilla entra in area, viene messa a terra e c'è calcio di rigore, calcio di rigore per attorramento di Villa in area, calcio di rigore quindi per Ile Camerun, una svolta in questo incontro, rivediamo l'azione, l'intervento è stato di Ebuome su Villa e c'è il calcio di rigore quando siamo giunti al decimo minuto del secondo tempo, attorramento di Ebuome su Villa ed è Cunde che si incarica della battuta di questo calcio di rigore momento particolare dell'incontro, sentirete i fischi, parte Cunde, destro, tiro, nolle, splendida l'esecuzione di Cunde e il Camerun è in avvantaggio dopo 10 minuti di gioco rivediamo ancora l'esecuzione, perfetta, angolata, nulla da fare per il portiere Ruffay, si sblocca quindi il risultato ancora l'inquadratura dall'alto, vedete l'angolazione, l'interno destro del libro della formazione del Camerun è la perfetta realizzazione, Cunde Emanuele Jerov la Nigeria quindi è sotto di un gol Nigeria che era stata data favorita fino a questa finalissima, socconde invece per 1-0 sulle Camerun vedremo ora la reazione, se ci sarà la reazione della formazione guidata da Manfred Henner tedesco della giornata